Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, si è appena conclusa la conferenza stampa del Ferrari eSport Series 2021 e SimDriver si è stato invitato come comunità ed è stato veramente interessante perché c'è stato un lancio diciamo veramente molto bello a livello di presentazione dove si è parlato parecchio diciamo della stagione passata 2020, arrivata al suo culmine con la vittoria del giovanissimo 21enne Giovanni De Salvo e con la consegna del premio addirittura fatta da Charles Leclerc, ragazzi pilota ufficiale Ferrari Formula 1 e con degli annunci molto belli per chi sogna di diventare pilota professionista di simulazione di guida perché da oggi martedì 16 alle 21 Ferrari e lieta di annunciare l'apertura delle iscrizioni della nuova stagione del campionato Ferrari eSport Series 2021. Come si svolgerà questa competizione? Ragazzi molto semplice iscrizione a partita da questa sera alle 21 dal 5 aprile fino al fine luglio verranno selezionati praticamente 48 piloti che a partire da fine agosto fino a novembre diciamo si sfideranno per scremare altri 24 piloti che alla fine di questa series si andranno ad affrontare proprio per la finalissima il gran finale come c'è stato nel 2020 e la Ferrari mette in premio un premio da sogno ragazzi Ferrari Drivers Academy eSport Team pilota ufficiale Ferrari ragazzi chi vince questa competizione del Ferrari eSport Series 2021 diventa pilota ufficiale un premio da sogno ragazzi veramente ma per noi comuni mortali perché io che la Ferrari è un sogno per tutti cosa posso aspirare c'è cosa che cosa c'è come novità siccome il simulatore utilizzato sarà sempre assetto forza competizione di Q1 simulazioni saranno fatti nuovi contenuti nuove auto che saranno messe a disposizione per chi compete in questa competizione in questa series ci saranno 4 nuove auto quindi la Ferrari 488 Challenge EVO la Ferrari 488 GT3 EVO e una delle mie preferite la 599 XX ragazzi e la FXXK ragazzi adesso vi faccio scorrere un po' le foto e dei video se ci sono se riesco ed in più Ferrari ha indetto anche un concorso che praticamente dà possibilità ai più creativi di poter fare delle livree personalizzate che saranno diciamo presentate durante le dirette live di Twitch sul canale ufficiale di Ferrari ovviamente perché tutte le gare saranno ritrasmesse se non sbaglio l'ultimo martedì di ogni mese da fine agosto fino alla fine della stagione quindi la parte praticamente della finale dei 48 partecipanti e quindi ci sarà questo livree contest che verrà proprio utilizzato per chi vince nel gioco ufficiale di Q1 simulazione ragazzi è un premio comunque dove c'è un grosso riconoscimento per chi creativamente riesce a proporre delle livree molto interessanti. Allora io come come SimDrivers sono veramente lieto di aver potuto partecipare in live a questa conferenza su zoom con questo invito che fa veramente piacere perché è il sogno di ogni pilota di simulazione poter partecipare a questo tipo di evento e poi poter condividere con voi l'annuncio spettacolare di Ferrari appunto per il lancio di questo campionato Ferrari Sport Series 2021 ragazzi è una figata pazzesca. Allora se siete interessati andate sul sito ufficiale Ferrari Sport Series punto gg d'accordo iscrivetevi a partire dalle 21 e vi auguro in bocca al lupo per chi partecipa spero che questa mega notizia bomba di questa conferenza stampa vi sia piaciuto quindi non esitate a lasciare un pollice in su ed iscrivervi al canale. Io quello che vi propongo è che alle 21 su questo stesso caldo simdrivers.eu vi ripropongo la live in replica appunto di questa conferenza stampa che è molto bella io che non capisco l'inglese con i sottotitoli in inglese sono riuscito a capire tutto c'è una prima parte dove presentano la parte appunto della stagione passata, le novità di questa stagione 2021 e poi il Q&A alla fine di questa conferenza stampa. Ragazzi un abbraccio a tutti noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao